Amici telespettatori, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Trentino Chiama Europa. Nella scorsa puntata abbiamo fatto conoscenza con due sigle, FSE e FESR, ovvero le denominazioni in breve dei fondi europei che ricadono ampiamente anche sul Trentino. In questa puntata vediamo che cosa si realizza con questi fondi. Si chiama Promfacility ed è il frutto della collaborazione tra Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, Università degli Studi di Trento e Confindustria Trento. I laboratori della Promfacility offrono alle aziende della filiera meccatronica una piattaforma integrata per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la verifica e la validazione di sistemi e processi produttivi. Il compito principale è quello di sviluppare, progettare, produrre e misurare prototipi per le aziende, dando la possibilità alle aziende di accedere a delle tecnologie innovative altrimenti difficilmente reperibili in questo momento sul mercato. Questo progetto si era pensato già a partire dal 2015 e poi ha incrociato una progettualità europea portata avanti dalla provincia che dava accesso e finanziava le infrastrutture tecnologiche. Inutile dire che per realizzare questa iniziativa i fondi europei sono stati determinanti. I fondi strutturali sono stati fondamentali perché ci ha consentito di mettere in atto la nostra progettualità. La progettualità era una progettualità condivisa di territorio e i fondi strutturali hanno permesso di renderla reale. Fondi europei determinanti anche per realizzare la nuova area che si integra e completa il progetto Manifattura a Roveretto, l'incubatore d'impresa di Trentino Sviluppo che sta trasformando lo storico opificio tabacchi in un centro di innovazione industriale nei settori del green building, della mobilità sostenibile e delle tecnologie per lo sport. È in corso oggi ad uno stato molto avanzato una costruzione interamente in legno, in legno lamellare, di 25.000 metri coperti di spazi innovativi ad altissima qualità prestazionale da punto di vista energetico, architettonico, della qualità degli ambienti, che saranno dedicati alle migliori aziende innovative, ai centri di ricerca, alla formazione universitaria. B-Factory è il naturale completamento del compendio storico di progetto Manifattura, nato dalla matita dell'archistar giapponese Kengo Kuma. I fondi hanno anche questa una storia che risale negli anni, sono fondi, cosiddetti fondi sviluppo e coesione, quindi gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico e tramite il Ministero raggiunti su fondi europei, e poi sono fondi FESER, quindi fondi dedicati dall'Unione Europea per tutto quello che è all'avanguardia nello standard energetico e nella prestazione energetica. Il progetto Manifattura è il luogo dove Maria Teresa d'Austria decise di realizzare una delle prime opere di industrializzazione dell'impero austro-ungarico. Grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione dello Stato e al programma operativo FESER della provincia autonoma di Trento, e quindi al contributo della Commissione Europea, sarà reso disponibile ai centri di ricerca, alle imprese e alla società civile. luogo di ricerca, sviluppo e innovazione di futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.